Tutti ci si chiedono il motivo perché in questo momento i parcheggi a pagamento, in breve, hanno coperto la segnaletica. La segnaletica è stata coperta perché al 30 settembre la ditta ha finito il suo lavoro, ma nel breve tempo di un mese, nell'arco di un mese sarà dato, ha fatto il nuovo bando e è dato già in gestione a una nuova ditta o alla stessa ditta, dipende poi chi vincerà questo bando, il nuovo capitolato e quindi il nuovo apparto alla nuova azienda, ripeto, riprenderemo tranquillamente, rivedendo qualche cosina intorno all'interno del nostro Paese. Grazie per la visione!